Dato che sia sulle mie pagine Instagram, sia sul gruppone Telegram di Zero Friendly, è spuntata fuori spesso la domanda quale microfono dovrei comprare per il mio home studio, per registrare voci, per registrare quello che vi pare. Oggi mi sono fatto mandare da strumentimusicali.net 5 di quelli che credo che siano i migliori microfoni a condensatore per un utilizzo in studio e in home studio in particolare. Sono 5 prodotti su 5 fasce di prezzo leggermente differenti, ma prima di vederli mettiamo in chiaro un paio di punti. Quindi innanzitutto non esistono microfoni per voce, microfoni per batteria. Questa dicitura viene spesso utilizzata dagli in store online per rendere più semplice trovare quello che state cercando ed è basata sul fatto che tradizionalmente alcuni microfoni sono stati più spesso usati per uno strumento o per l'altro. Un microfono di per sé però può essere usato su qualsiasi strumento. Avrà semplicemente una timbrica, quindi una risposta in frequenza, più o meno particolare, più o meno caratterizzante. Ed è questo che dobbiamo cercare, il colore che ci piace di più. Due, parliamo di microfoni a condensatore quando parliamo di microfoni che sfruttano per la cattura della nostra emissione sonora nell'aria una capsula che non è altro appunto che un condensatore. Cioè per farla molto breve è un dispositivo in grado di immagazzinare carica elettrica e di rilasciarla. Il condensatore presente in un microfono a condensatore sarà costituito da due membrane molto 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 sottili, di cui una è mobile. Questa mobilità di una delle due membrane creerà la tensione che poi si traduce nel nostro suono effettivo. Dato che queste membrane sono appunto molto ma molto 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 sottili, i microfoni a condensatore sono spesso la scelta migliore per segnali non fortissimi, come voci appunto, chitarre acustiche. Saranno ottimi per catturare tanto volume senza dover per forza andare a bustare il pre della nostra scheda, oltremodo, direzionale. Lo monterò su uno di queste che è un'asta da tavolo. È molto molto comoda, trovate ovviamente tutti i microfoni e anche le aste qui sotto nella descrizione. Davanti al microfono converrà a mettere un antipop come questo. Questo in particolare è un antipop mobile, si può montare dove volete. Servirà per togliere appunto tutte le pt. Io ne esaurò uno con lo shock mount incluso. Vi consiglio di prenderne uno, praticamente disaccoppia il microfono con un sistema di molle dall'asta, quindi assorbirà le vibrazioni e ci darà molti meno rumori indesiderati. In più abbiamo l'antipop integrato. Adesso vi darò una demo di ogni microfono, dal meno costoso al più costoso, in modo che possiate farvi un'idea di come suonano. E vi darò una demo sia del segnale dry, così come esce dal microfono, sia del segnale che processerò con un preamplificatore, un compressore e un equalizzatore della Analog Obsession, che è un bundle gratis, molto molto carino. Questo è il suono del BX2020 da solo, non processato. Questo è il suono dell'SE-X1A da solo, non processato. Questo è il suono del Rode NT1A da solo, senza processamento. Questo è il suono dell'Aston Spirit da solo, non processato. Questo è il suono del Neumann TLM102 da solo, non processato. Questo è invece il suono sempre del BX2020, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Questo invece è sempre il suono dell'SE-X1A, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Questo è sempre il suono del Rode NT1A, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Questo è sempre il suono dell'Aston Spirit, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Mentre questo è sempre il Neumann TLM102, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Il primo microfono che vi faccio vedere oggi è proprio questo che ho in mano, è il Behringer BX2020, è l'emulazione dell'audiotecnica AT2020, è praticamente identico, solo che costa la metà. Possiamo notare subito che sul fianco c'è indicato anche questo piccolo cuoricino al contrario, che sta ad indicare la sensibilità al volume di questo microfono. In particolare questa forma si chiama cardioide, e la capsula è orientata in questa direzione. Una forma cardioide ci dirà che il microfono sarà sensibile ai suoni che vengono da questo insieme di direzioni davanti a lui, e non sarà sensibile ai segnali che arrivano da dietro. Quello che chiamiamo anche un microfono. Questo è il suono del BX2020 da solo, non processato. Questo invece è il suono sempre del BX2020, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Saliamo leggermente di prezzo, parliamo invece dell'SX1A. Anche questo è un microfono a condensatore di tipo cardioide, ma in più rispetto al microfono di prima abbiamo due selettori, uno a sinistra e uno a destra. Quello a sinistra ci servirà per effettuare, se ne abbiamo bisogno, un pad di 20 dB sul segnale, ovvero un'attenuazione di 20 dB rispetto a quello che arriva direttamente nel microfono. Può essere molto utile quando urliamo nel microfono, o quando riprendiamo ad esempio percussioni parti della batteria. L'altro selettore ci servirà invece a filtrare le basse in registrazione. Quindi magari per segnali che sono molto rimbombanti, o ambienti che hanno un rimbombo naturale, un riverbero particolarmente scuro, può essere molto utile. Occhio perché queste due cose che facciamo a bordo del microfono verranno stampate nella registrazione, cioè saranno irreversibili. Questo è il suono dell'SX1A da solo, non processato. Questo invece è sempre il suono dell'SX1A, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Terzo microfono, microfono che ho usato per anni, e il Rode NT1A che arriva con tutto questo accrocco, composto di anti-shock e di anti-pop con il logo Rode, che è molto carino. Anche questo è un microfono a cardioide, non ha selettori e cose varie come l'SE, fa il suo sporco lavoro, sentiamo come suona. Questo è il suono del Rode NT1A da solo, senza processamento. Questo è sempre il suono del Rode NT1A, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Quest'ultimo microfono, rispetto ai due precedenti, ha un guadagno molto più alto, per cui ho dovuto abbassare il preamplificatore per ottenere lo stesso volume in input. Avere un microfono piuttosto sensibile è molto importante, perché ci permette di lasciare appunto il preamplificatore basso, e di catturare tanto volume, anche senza dare troppo guadagno, riducendo così gli eventuali rumori di fondo, il rumore di fondo, se ce n'è, della nostra attrezzatura, e ce n'è quasi sempre, e anche stando più sicuri di non creare distorsioni indesiderate. Quarto microfono che vediamo, è un microfono bellissimo da vedere, e anche che ha qualche funzionalità, niente male. Sto parlando dell'Aston Spirit, è l'edizione limitata in onore del quinto anniversario di questa azienda, dietro c'è un simpatico cagnolone, è veramente molto figo esteticamente, e in più ha tre cosine molto carine. Anche questo ha un selettore per il pad, che può essere assente, meno 10 dB a destra, e meno 20 dB a sinistra, quindi ha tre sensibilità molto diverse. Tutto a destra c'è il nostro filtro, il selettore centrale invece, e questa è la chicca più interessante di questo microfono, ed è l'unico tra questi microfoni di oggi, che ha questa possibilità, vi permette con un selettore a tre vie, di selezionare in posizione centrale, il solito cardioide, a sinistra di andare in omnidirezionale, questo significherà che se la capsula è orientata in questa direzione, il microfono sarà in grado di catturare i suoni che arrivano da tutto intorno alla capsula. Ottimo settaggio se dobbiamo campionare delle room, una stanza, un microfono a distanza dal nostro cantante o dal nostro strumentista. Se metto il selettore tutto a destra invece avrò una figura 8, cioè avremo sensibilità massima davanti, come in un cardioide, e dietro, ma non ai lati. Questa configurazione, seppure un po' particolare, in realtà è la configurazione necessaria per realizzare una tecnica di microfonazione che avete visto in questo videone, uno dei primi che ho fatto, che è la mid and side. È una tecnica fichissima. Andatela a sentire, sentite come suona, vi servirà una figura 8 se volete provarci. Questo è il suono dell'Aston Spirit da solo, non processato. Questo è sempre il suono dell'Aston Spirit, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. Come ultimo microfono ho voluto includere un microfono di fascia un po' più alta, è il Neumann TLM102. In questo caso ho preso il set con il suo ragno, con il suo anti-shock. La Neumann, per chi non la conosce, è una delle marche di microfoni più famose in assoluto. Possiamo dire che sono le Ferrari dei microfoni. Questo qui in particolare è un microfono sempre a condensatore, con diagramma polare cardioide, non è switchabile, non abbiamo filtro, non abbiamo pad. Quello che lo rende particolarmente diverso dagli altri è che è il più economico di casa Neumann in assoluto. Normalmente i prezzi dei Neumann vanno su 2, 3, 4 mila euro e oltre. In questo caso la Neumann ha voluto fare questo microfonino, che tra l'altro è piuttosto piccolo e leggero, specialmente rispetto all'Aston, ed è quindi un microfonino che si sposa bene con un ambiente piccolo di home recording, ma che promette di dare una definizione specialmente in alto, particolarmente brillante. Quindi se hai il suono che state cercando, potrebbe valere la pena spendere qualcosina in più. Questo è il suono del Neumann TLM102 da solo, non processato, mentre questo è sempre il Neumann TLM102, ma con sopra preamplificatore, compressore ed equalizzatore. In questo caso specifico del TLM102 ho invece dovuto dare qualche dB di preamplificazione rispetto ai microfoni di prima. Se devo darvi la mia, il mio preferito in assoluto di oggi è l'Aston Spirit, oltre che per il design, che è fichissimo, lo fanno anche senza questo design, se non ti piacciono i bei cagnoloni, ma è l'unico che ci offre la possibilità di avere tutti questi controlli a bordo, oltre che il pattern polare switchabile. Avere tre pattern polari è come avere tre diversi microfoni in studio, quindi si adatterà sicuramente alle voci di tutti i giorni, agli strumenti più comuni, ma anche a situazioni in cui vogliamo fare un po' le cose pazze. La fase di recording è una delle più importanti, se non la più importante quando stiamo producendo un brano e sarà quella determinante per il suono finale del nostro mix. Una recording fatta male porterà a un mix che non suona bene, nel 100% dei casi. Il mix non è quel processo che si fa per migliorare una recording fatta così così, è quel processo che serve a dare dettaglio alle scelte che abbiamo fatto durante la recording. La scelta del microfono è sicuramente il primo passo, la scelta della microfonazione è un altro passo molto importante, ma lo studio poi della tecnica e della pratica è il passo fondamentale. Motivo per cui tra i link qui in descrizione trovi anche i link del mio nuovo corso di mixing in cui faremo tanta recording e tanto mixing. Se vuoi approfondire l'argomento, ti aspetto. Grazie ancora ai ragazzi di strumentimusicali.net che oggi mi hanno mandato questi bellissimi microfoni. Fammi sapere nei commentoni qual è il tuo preferito e perché, o se il tuo preferito è un microfono che non hai visto oggi in questo video. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, se l'hai già fatto, mua!